Dannoso. Dannoso anche se permetti, e vengo nel punto del problema, per il controllore. Cioè, voglio dire, quanto si viola la Costituzione così macroscopicamente? Quanto si fanno delle cose così pericolosamente? Mettetevi tutti e due in un campo di calcio. Mettiamoci in un campo di calcio, no? Lui mi tiene un calcio, mi fa fallo, tutti voi che state ascoltando, tutti gli spalti che fanno, tac, con l'occhio guarda l'arbitro. Mo' che fa? Cazzo, non l'ha trovato l'arbitro. Poi si è venuto a sapere che l'arbitro si è messo pure d'accordo con come doveva fare il fallo. Mi rode, roda la democrazia, mi rode come cittadino, mi dispiace che a farlo l'abbia fatto il Presidente della Repubblica, dopodiché mi roda ancora di più, che non posso dirlo perché tutti quanti dicono che è sbagliato, tutti quanti dicono che hanno fatto la cosa sbagliata, ma l'arbitro non si può sindacare. E che è? L'arbitro che ha un piovuto dal cielo? Che non ce l'ha coordinato? Cioè se il medico mi ordinasse, non critica l'arbitro, vabbè, ma mica me l'ha ordinato. Allora, qui aprirei una parentesi, sì, alleati, coalizioni, appunto regionali perché ci saranno le regionali, certo. Il PD sabato sarà in piazza con un piede, un piede e mezzo, tutte e due, però ha paura, teme, che lei li trascini contro Napolitano e questo è un materie che vi divide da sempre. Posso assicurare, posso assicurare. Io prendo atto e ringrazio che il PD finalmente viene in piazza. Ho chiamato al PD a Piazza Navona, ve lo ricordate? E me l'hanno detto tutti coloro. Ho chiamato il PD a Piazza Farnese, ve lo ricordate? E me l'hanno detto tutti coloro. Ho richiamato il PD a Piazza Navona l'ultima volta con il Popolo Violi, c'è, c'è venuto. E io sono contento, perché finalmente comincia a capire che non bisogna stare solo dentro il palazzo, bisogna stare in mezzo ai cittadini per rendersi conto che il cittadino non è scemo. Se al cittadino gli dice il governo Berlusconi ha fatto una legge nottetempo, golpista, irrituale, assurda, e quindi è tutto da condannare, ma ha fatto bene il capo dello Stato, cioè voglio dire, come dire, sono state date dieci coltellate alla democrazia, i primi nove erano facevano schifo, la decima, quanto è bella. Allora, premesso tutto questo, io ho detto e ribadisco qui, per me la manifestazione di sabato non è contro il capo dello Stato, perché i cittadini, grazie a Dio, e l'Italia dei Valori, grazie a Dio, si sa difendere, si sa difendere da solo. In questo senso la mia manifestazione di sabato è un invito a essere tutti insieme contro Lucifero Berlusconi, non contro l'atteggiamento del capo dello Stato che ha fatto finta, che ha sbagliato, ha sbagliato, ha sbagliato proprio grosso come una casa, perché, oh, ma i suoi uffici, io direi, vai al tuo ufficio legislativo, signor Presidente della Repubblica, ma non t'hanno detto, e questa era una materia di competenza regionale, non t'hanno detto che nell'azio la legge elettorale già stava fatta, non t'hanno detto che nella Costituzione è previsto che le leggi elettorali regionali le fanno le regioni, dico, non te l'hanno detto, mi rifiuto di pensare tutto questo. E allora, e soprattutto, non potevi aspettare dieci ore che decideva il Tribunale e vedevi che ti riammetteva uno formicone e polverino, valeva la pena di sporcarsi le mani per uno schifo di decreto legge. Detto questo, sabato, vi posso assicurare che il mio obiettivo non è il Presidente della Repubblica, il mio obiettivo è questo governo che a mio avviso se gli dai tanto e ti frega tanto, ti frega tanto, ti frega tanto, come ha fatto Mussolini e alla fine ti frega la libertà. L'orevole, c'è Macioce che scalpita, che oggi ha scritto... Perché è un soggetto politico. Che un interlocutore scalpita comunque, perché Macioce... Non parlo in difesa di Berlusconi, parlo in difesa delle mie idee. Infatti lei ha scritto oggi che la piazza è un'abitudine, se non sbaglio, è la giustizia o metromono, no? Cosa vuol dire? Che la piazza è un... Partiamo da un discorso... Eversiva a prescindere, sbagliata... No, 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 il mio discorso è molto più di... Voglio completare la domanda. Se i giudici non sono un metronomo, chi lo deve essere? Questo... A questo vorrei che rispondessi. Partiamo da un primo discorso. Se il decreto è anticostituzionale, lo decide la corte costituzionale e non Di Pietro. Poi lui può avere, giustamente... No, può avere una sua opinione, perché è il libro... Si, sono espressi in questo, sì. Non la corte costituzionale ancora. Non ancora, non si è ancora pronunciata. Aspettiamo. E quindi, se la corte dice che è anticostituzionale, sarà anticostituzionale. C'è comunque l'intervento di Napolitano che non mi sembra, al di là di tutto, un signore... Non mi sembra Vittorio Emanuele di Savoia che accetta la marcia su Roma di un ipotetico Mussolini moderno. A me la cosa è che più mi sconvolge questa storia. Se ne sei detto il contrario, gliene avreste detto di impegno. Io non faccio parte di... Io non sono iscritto a nessun partito. L'ultima volta che ho... Io non voto dal 94, l'ultima volta che ho fatto un'azione politica è stata a raccogliere. Nel 91 avevo 22 anni, le firme per lei, per un bellissimo referendum che poi... Era un radicale in quei tempi, che poi non è stato rispettato da un politico italiano. E questo è quello che mi preoccupa a me. A me preoccupa il fatto che noi siamo in un mondo fantapolitico in cui c'è una parte del paese che non riconosce la legittimità a governare di un uomo che bene o male ha vinto le elezioni. E continua a parlare di golpe, di fascismo, offendendo i veri martiri della democrazia. Perché obiettivamente, secondo me, non siamo in una dittatura. Obiettivamente non vedo Gramsci in carcere per vent'anni. Obiettivamente non vedo nessuno che vieta all'opposizione di parlare e di esprimere e di scendere in politica e di vincere le elezioni, fra quattro anni, fra tre anni, quando vuole, con il mezzo democratico. Io penso che la piazza sia uno strumento legittimo di protesta. Nel momento in cui la piazza diventa l'unica forma di opposizione politica, mi preoccupa non per il governo, mi preoccupa per l'opposizione. Perché se l'opposizione diventa soltanto da anti-berlusconismo, vuol dire che è un'opposizione morta da 15 anni che ha in testa una sola idea che è ammazzare i berlusconi, far fuori i berlusconi. Innanzitutto, se dici la piazza è uno strumento, secondo me già partiamo, la piazza è un luogo dove si manifestano delle opinioni. Rispetto invece a come si arriva al consenso elettorale, faccio presente che metà delle reti televisive sono della famiglia del Presidente del Consiglio e nell'altra metà è successa una cosa che in nessuna democrazia si conosce, cioè la chiusura di programmi di approfondimento, che per esempio in questo caso avrebbero potuto aiutare i cittadini a capire qualcosa di più di quanto è successo con questo decreto, che è molto discutibile, tanto è vero che probabilmente la Corte, come tu dici, si esprimerà. In ogni caso, questo non è un problema secondario se tu pensi che siamo una democrazia basata sui media. Io penso che questo pasticciaccio... Di chi sono i media è importante. Allora, io penso che gli italiani siano un po' più intelligenti, forse mi fido di più di quanto uno pensi, per cui io non penso che Berlusconi vinca per le televisioni, tanto è vero che ha anche perso, cioè contro Prodi ha perso due volte. Insomma, Berlusconi vince perché ha una capacità politica di aggregazione e di conquista dei voti. Penso anche che questo pasticciaccio brutto delle liste, perché comunque alla base di tutto questo, cioè che il PDL ha fatto una brutta figura, e insomma la pagherà questa cosa a livello di voti. Cioè ha un costo politico altissimo questo errore. Io ho scritto anche un pezzo del giorno prima in cui dicevo parlavo del costo politico di questo errore, perché Berlusconi, bene o male, nell'immaginario è l'uomo del fare, e il suo partito è quello che non riesce a presentare le liste a Roma. Quindi ci sarà probabilmente un costo politico forte. Quando finisce, quando finisce. Quello che a me preoccupa è il populismo. Nel mio pezzo di oggi, io dicevo, andate a manifestare non a Piazza del Popolo, ma a Piazza del Clodio, dove ci sono i tribunali, ma soprattutto è dedicato a un certo Clodio, che era il fratello di Clodio, la famosa lesbia di Catullo, che era famoso a Roma per essere un aristocratico populista. Ecco, quando la piazza si muove in questo modo, a me mi ricorda molto l'aristocrazia populista. E siccome io non sono un aristocratico, ma vengo da un picco paese di 3.000 abitanti, non mi piace che una sinistra non elettorale, non democratica, che non si confronta con il voto, scelga il metronomo della giustizia e scelga la piazza per fare politica. Sui giudici? I giudici non dovrebbero essere un metronomo della democrazia, nessuna democrazia, i giudici devono fare il loro dovere. Quindi se ci sono... E qual è il loro dovere? Giudicare e indagare. Nessuno gli toglie questo di vede. Che poi io possa pensare che in Italia ci sia un accanimento nei confronti di una parte politica, di una piccola parte della magistratura, questo è un mio sospetto, ma siccome non ho prove, mi sto zitto.